Recensione di Sony Xperia Z1, lo smartphone top di gamma di casa Sony con schermo Triluminos e resistente ad acqua e polvere. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, oggi recensiamo Sony Xperia Z1, lo smartphone top di gamma di casa Sony. Ho già realizzato due focus che potete andare a vedere sul sito, uno sulla resistenza all'acqua e uno sul comparto fotografico che è particolarmente lungo, quindi lo salterò in questo video. Andate a vedervi il focus che ho realizzato. Velocemente, il contenuto della confezione, abbiamo delle pellicole aggiuntive con il panno, anche se non sono sicuro che nella confezione definitiva italiana ci siano perché questa è la confezione inglese. Cuffie in ear con i gommini, cavo USB, micro USB, volantino per l'Xperia Privilege che ci è stato confermato di essere presente anche in Italia e alimentatore, in questo caso è inglese. L'acquisto qua è stato fatto su Expansi se abbiamo anche un alimentatore italiano. Questo è il bel Xperia Z1, bello perché non c'è ombra di dubbio, dal punto di vista del design è veramente un bellissimo telefono. Abbiamo sul lato destro tasto di accensione, bilanciare del volume, tasto di scatto con doppia corsa, foro per un laccetto, sportellino per la micro SIM. Nel lato sinistro abbiamo doppio sportellino, uno per la micro USB e uno per la micro SD. Connettore per eventuale dock, sopra abbiamo la porta audio, jack audio scoperta, quindi nonostante la resistenza all'acqua e alla polvere è libera. Fosocamera da 20 megapixel, LED flash, indicazione NFC, vetro anche dietro e abbiamo un grosso speaker nella parte inferiore. Parliamo un attimo di caratteristiche tecniche. Quindi il processore è lo stesso di tutti gli altri top di gamma attuali appena usciti, quindi è uno Snapdragon 800 di Qualcomm con frequenza di 2.2 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili tramite la micro SD, abbiamo visto. Batteria è stata portata a 3000 mAh, 20 megapixel di fotocamera, 2 megapixel di fotocamera frontale, schermo 5 pollici, è un TFT, 1920x1080 pixel. Spesso appena 8,5 mm, connettività LTE fino a 150 Mbps, quindi categoria 4, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, uscita video MHL tramite la porta. Abbiamo elencato tutti i dettagli e andiamo a vedere un attimo come è fatto lo smartphone frontalmente, perché ha ricevuto molte critiche per gli ampi bordi che troviamo, gli ampi margini che abbiamo sopra e sotto lo schermo. È vero, ci sono, non sono, probabilmente più che altro non sono bellissimi dal punto di vista estetico, non peggiorano troppo l'usabilità dello smartphone. Quello che in realtà pesa un po' di più per quanto riguarda l'usabilità, proprio, scusatemi il gioco di parole, è il peso, 170 grammi, che non sono pochissimi. In tasca lo smartphone si può ottenere abbastanza bene, ma rispetto agli altri 5 pollici, questo smartphone è sicuramente più ingombrante e un pochino più scomodo. Nulla a che vedere con l'ingombro di un Galaxy Mega da 6.3, ma per essere un 5 pollici è quello che mi ha dato più problemi per portarlo in giro, o mi ha dato più fastidio. Andiamo a parlare dello schermo, perché ha ricevuto tante attenzioni, perché come sapete lo schermo di Xperia Z non ha convinto, non ha convinto neanche noi in particolare. Ci avete criticato in tanti, io non avrei voluto offendere nessuno, però se uno schermo non è all'altezza della concorrenza non lo è, cioè non vedo perché avrei dovuto dire il contrario. Questo Xperia Z1 va a migliorare nettamente quello che era successo con il precedente Xperia Z, specialmente grazie al display Triluminos e alla funzione di X-Reality attivabile nelle impostazioni per video e foto. Vedete frontalmente in questo momento lo schermo che è veramente bellissimo, ma c'è un ma purtroppo, gli angoli di visione sono ancora bassi, non come Xperia Z dove erano bassissimi. Ma sono bassi. Basta inclinarlo veramente poco, vedete, che inizia a scomparire tutto. Eccolo qua. Ora diciamo che sono considerazioni che sarebbero da fare al netto dei vari riflessi che ci sono qua, finestra eccetera eccetera, quindi metterò un po' di foto online, però si nota abbastanza bene quando lo inclino indietro, avete visto. Io ripeto che non è un problema di, oh mio dio, lo schermo va visto per forza frontalmente. Il punto è che se io poggio il telefono su un piano e mi allontano un attimo, non riesco più a vedere cosa compare sullo schermo. In modo chiaro. Quindi, lo schermo è buono, meglio di Xperia Z, ma per un'azienda come Sony che dovrebbe fare dello schermo il suo vanto, lo schermo di questo Xperia Z1 non può essere messo fra i suoi vanti, che comunque ci sono e sono altri. Andiamo a vedere un attimo, cominciamo il test. Io comincio sempre dicendo Android Word quando voglio in realtà andare su The Verge. Andiamo a fare un po' di test sul browsing web. È presente solo Chrome, quindi niente browser stock. Chrome che, nonostante le sue imperfezioni, si comporta meglio rispetto ad altri smartphone, anche con Snapdragon 800. Quindi, Sony deve comunque aver fatto qualcosa dal punto di vista dell'ottimizzazione perché fluidità e zoom danno prestazioni migliori. Lo zoom con pinch to zoom, infatti vedete che è praticamente quasi perfetto. Qualche incertezza in più per il doppio tap, specialmente quando faccio lo zoom out. Eccolo qua. Avete visto c'è stato un attimo di incertezza, però si comporta comunque meglio della concorrenza. Una soddisfazione non da poco. Qui abbiamo il tasto per il multitasking con possibilità di chiudere applicazioni, ma soprattutto di aprire delle piccole app che possiamo portarci in giro. Il sistema non è comodissimo. Quello di LG per esempio ci è piaciuto un po' di più, però si può fare. Le applicazioni avete visto sono queste. Possiamo gestirle da qui e possiamo aggiungerne anche altre, fra cui anche widget. Possiamo scegliere di rendere widget applicazioni che ci seguono. Abbiamo poi barra delle notifiche personalizzabile, che però lo andiamo a vedere un attimo dalle impostazioni. Voglio farvele vedere tutte. Cominciamo con la personalizzazione. Abbiamo dei motivi fra cui scegliere, che sono anche abbastanza. E abbiamo queste impostazioni rapide, che possiamo scegliere fino a 8 o 10, non ricordo. Vediamo. Ok, 10 dovrebbe essere. Non mi fanno impazzire, perché vengono disposte su due righe, se poi vedete che in questo caso sono 9 e vengono sfalzati. Sembrava quasi un firmware modificato fatto da qualche ragazzino. Si poteva fare decisamente meglio da questo punto di vista. Però almeno i toggle rapidi ci sono e sono raggiungibili con buona comodità. Display abbiamo visto, vi ho detto, che è presente X-Reality per foto e video. Abbiamo una luminosità che può essere sia, vedete, altissima, da non farvi neanche più leggere cosa c'è scritto, a automatica, a sua volta potete scegliere un range. Io ho messo automatica e poi ho lasciato al massimo. Nella gestione della batteria abbiamo la modalità stamina, che permette di scegliere quale applicazioni possono continuare a connettersi a internet dopo un certo livello di batteria io ho scelto il 30 e dopodiché invece sotto il 15 ho scelto di disabilitare alcuni servizi del telefono. È una funzione molto intelligente, la miglior funzione di risparmio energetico mai vista su uno smartphone, lo ripeto. Il fatto sta che l'autonomia di questi Xperia Z1 con modalità stamina attiva e modalità risparmio energetico attiva sotto il 30 e sotto il 15, come ho scelto io, non sembra regalare grandi soddisfazioni e anzi la batteria va giù abbastanza a picco anche senza utilizzare lo smartphone, quindi autonomia che non mi ha convinto. Per quanto riguarda la tastiera voglio farvela vedere perché solitamente ormai non la faccio quasi più vedere perché sono tutte abbastanza buone, questa è particolarmente buona. Voglio poi farvi vedere una cosa, gli effetti grafici che sono stati curati sono piccole cose, questo piccolo slide del testo, ma il sistema ne è pieno, scorrimento delle foto che viene fatto con un leggero movimento, tic di selezione, per esempio dove erano nella personalizzazione, nel display, l'animazione dei tastini, ci sono tantissimi piccoli dettagli come questi nel sistema che lo rendono veramente adorabile, mettiamola così, volevo cercare un termine migliore ma è venuto fuori questo, e dimostrano la grande attenzione di Sony per i dettagli. In quanto a funzioni, in quanto a usabilità, questa interfaccia Sony non è quella che preferisco, siamo ancora lontani, ma per quanto riguarda l'estetica, forse supera anche quella di HTC, che con molta semplicità nell'ultimo HTC One aveva fatto un buon lavoro. L'attenzione per i dettagli di questo smartphone è veramente grandissima. Poi ci sono delle piccole defiance, per esempio questa barra qui, che non si può assolutamente vedere, secondo me, per come è stata pensata, però in incomplesso è veramente stato fatto un ottimo lavoro in tutte le applicazioni. Secondo me c'è un qualcosa che ricorda gli screenshot trapelati del prossimo Android KitKat. Voglio mostrarvi ancora le altre applicazioni, andiamo più veloce, se no qui non finiamo più. Voglio farvi vedere Film, che è l'applicazione che contiene i video. Vi ricordo che ho l'opzione X-Reality attiva. In questo caso l'X-Reality si nota, i video sono, diciamo, pompati affinché rendano al massimo, e si vede, e non è necessariamente una cosa malvagia, anzi io la ritengo una cosa abbastanza positiva. Per quanto riguarda i video che vi mostro sempre, questo è il DVX. Sentite che l'audio è un po' basso, e poi ve lo faccio sentire anche con la musica. DVX MKV, senza audio, ma comunque si comporta bene. Visto che ho parlato di audio e ho parlato di musica, faccio un salto direttamente su Walkman per... Ecco qua. Avete notato anche la transizione del tasto Play quando viene premuto? Sono tanti piccoli bellissimi dettagli. Questo è il massimo del volume, io riesco a parlarci sopra abbastanza tranquillamente, senza grandi problemi. La qualità è buona, ma per quanto riguarda il volume si poteva fare meglio. Cosa altro ho dimenticato di mostrarvi? Allora, vabbè, la fotocamera l'ho fatta vedere nello speciale, quindi dovete necessariamente andare a vedervela lì. È presente Office Suite, è presente un'applicazione per le note, il PlayStation Mobile per acquistare i giochi PlayStation, Social Life che non riesco a utilizzare perché Sony sembra odiarmi. Track ID che serve a riconoscere i brani musicali, Track ID TV che serve a riconoscere gli show, i personaggi, eccetera, eccetera, ma non funziona in Italia. TV Side View permette di utilizzare lo smartphone come telecomando, ma non infrarossi perché non è presente la porta infrarossi. Funziona infatti solo con i programmi Sony, con i software Sony, hardware Sony, quindi televisioni Sony, eccetera, eccetera. Molto bella però è comunque la guida dei programmi, che è una delle più belle che secondo me si sia mai viste su di uno smartphone. Questa è la guida dei programmi TV, molto molto bella. Abbiamo anche dei comandi vocali per comandare i vari dispositivi. Voglio farvi vedere, non l'ho mai fatto, lo voglio fare oggi, l'applicazione dell'orologio, perché questo è l'orologio, che è veramente bellissimo. Questo per esempio è il countdown, per esempio a 9 secondi. Voglio proprio farvi vedere l'attenzione ai dettagli, le animazioni scelte per questo, per questa interfaccia di Sony Xperia Z1. Veramente complimenti a Sony. Vado, porto un attimo lo smartphone fuori per fare una telefonata al 190, giusto per privacy dei miei contatti. È presente la ricerca nel dealer telefonico. Anche qui la qualità non è male, però il volume è abbastanza basso. Vi avvio anche il Riptad GP2, nonostante questo sia uno Snapdragon 800, quindi sapete già dove stiamo. Sto andando a parare. Sto andando a parare che ovviamente funziona benissimo. Ok, non è facile giocare da qui. Ho fatto giusto una curva, ma avete capito che con i giochi non ha assolutamente nessun problema. Un'ultima cosa che vi voglio mostrare, che non mi è piaciuta, è questa, esatto, ve l'ho fatta vedere per errore. Alla fine del drawer è presente questo menu per gestirlo. Intanto è fastidioso perché arriviamo in fondo e si apre. Oltre al fatto che è fastidioso perché capita di aprirlo, vedete, anche quando non lo si vuole. Non capisco come a Sony gli sia venuta in mente una cosa del genere, ma purtroppo gli è venuta in mente. Questo è Sony Xperia Z1 in vendita a 699€, un prezzo un pochino alto. Tutte le aziende hanno scelto di salire di prezzo, tutto eccetto LG. Sony in passato aveva scelto di rimanere più bassa, qui non ha resistito alla tentazione ed è arrivata subito a 699€. È un bello smartphone che ha tante cose su cui giocare, che se vi piace il design, se vi piace l'attenzione ai dettagli, probabilmente vi ha già conquistato. Io potrò dirvi tutte le cose negative del mondo su questo smartphone, ma l'attenzione per i dettagli e il design di questo smartphone da soli possono convincere molte persone, lo so. Dal punto di vista delle cose che non me l'ha convinto, l'audio è un po' basso, ci si può passare sopra. La fotocamera è un'ottima fotocamera, ma non fa gridare al miracolo, ha delle cose che lasciano un po' perplessi, andate a vedervi lo speciale. E il display, la considerazione è esattamente la stessa, è un buonissimo display, ma ci sono cose che ancora lasciano perplesse, in cui Sony non è riuscita ad arrivare al top. Per questa recensione di Sony Xperia Z1 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it Emanuele Cisotti per l'anno